la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it a tutti un buongiorno ben ritrovati con la rassegna stampa di uno news di oggi mercoledì 12 novembre le principali notizie di oggi vedono in primo piano di nuovo l'italicum la legge sulla la legge elettorale che vorrebbero renzi e berlusconi cala il gelo tra i due poli e poi salerno termo valorizzatore il presidente della provincia lo vuole e de luca frena su questa possibilità e dice ci sono molte altre iniziative per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti ma adesso vediamo il mattino di salerno il titolo di apertura sulle riforme il giorno della verità gelo alla vigilia del faccia a faccia renzi berlusconi forza italia si al dialogo no ai diktat il premier sull'italicum il problema non è silvio ma i suoi pace confitto forza italia si ricompatta e poi il focus unione europea e conti pubblici cosa rischia l'italia il retroscena la legge entro natale per rispettare il colle leggiamo brevemente insieme i particolari cosa corsa contro il tempo per arrivare alla vigilia di natale e provare a chiedere al presidente della repubblica giorgio napolitano un ulteriore piccolo sacrificio restale restare sul colle almeno ai primi giorni di marzo è questo il non detto del vertice di maggioranza dell'altra sera che segna la fine del patto del nazareno come unico asse per la riforma un cambio di strategia da parte di renzi quello di mobilitare l'intera coalizione senza snobbare neanche il più piccolo alleato che fino a qualche giorno lo stesso premier non aveva messo in conto e ancora leggiamo del rio prepariamo un piano per il sud pressing dei partiti il governo si muove si della camera a nove emozioni bipartisan il parlamento detta al governo un cambio di rotta sul mezzogiorno con nove emozioni approvate da tutti i gruppi presenti alla camera tranne la lega e graziano del rio si dice d'accordo e annuncia il varo di un piano per il sud intanto però il cipe assegna 3,8 miliardi di cui solo il 12 per cento va ai territori meridionali i titoli dei commenti di oggi perché non bastano le parole e il paese dei ragazzi in fuga salerno il caso san matteo ancora in primo piano caos appunto san matteo l'inchiesta si allarga da un lato i portatori che attendono le mosse successive degli inquirenti dall'altro la procura che prosegue con la propria attività investigativa un'attività che stando ad alcuni rumors è serrata anche grazie ai dettagli che sarebbero stati rivelati nel corso degli interrogatori che si stanno svolgendo in questi giorni interrogatori indagati e persone informate sui fatti che avrebbero fornito al sostituto procuratore fittipaldi e al capo della digos amato dettagli importanti da approfondire e poi accanto la corte dei conti porto di napoli maxi sequestro agli ex vertici spunta un danno era reale da 7,5 milioni per la mancata riscossione dei canoni sugli spazi occupati da cantieri e containers andiamo avanti leggiamo l'intervista di luca i leader del pd temono le primarie è questa la dichiarazione principale dell'intervista di oggi al sindaco di salerno vincenzo de luca sulle prossime elezioni regionali e poi ancora il gomorrismo che fa male a saviano le idee il pericolo il pericolo della camorra e gli eccessi giudiziari e mediatici ieri tra l'altro ballarò ha dedicato molto spazio ad una intervista aperta a saviano che cosa vuol dire condannare o assolvere l'avvocato dei casalesi per le minacce portate contro roberto saviano e rosaria capacchione qualunque cosa voglia dire in termini processuali questi termini sono di gran lunga sopra avanzati dal significato che la sentenza prende su un altro piano quello mediatico a che serve infatti una sentenza che manda assolti bidognetti e giovine e condanna il loro difensore a nulla non a saviano né a tutti noi una minaccia che non viene mai che non viene dai due capi camorra non è più la stessa minaccia ma in verità l'esito processuale conta fino a un certo punto e il limite non conta affatto e poi ancora accanto il reportage il paese che preferisce il santone al papa a gallinaro boom di cittadini adepti e parrocchie vuote santone ma che santone ma quale guru ma quale antipapa sciocchezze giri di danaro affari ma quando mai samuele è solo un uomo vicino a dio la domanda che dovreste porvi è perché a gallinaro sorgerà la nuova gerusalemme perché il signore ha scelto questo luogo gallinaro 1200 anime in provincia di frosinone perché poi il signore avrebbe puntato su samuele alias mario samuele morcia profeta anti bergoglio per rivelare che la chiesa di roma ha perso la bussola intanto tra le colline sta sorgendo l'arca una specie di santuario per i pellegrini e le parrocchie si svuotano vedremo che cosa accadrà su questa vicenda e poi il calcio mercato il napoli punta su cerci per sostituire insigne allora entriamo all'interno delle pagine del mattino nazionale con la questione dell'italicum e allora vediamo che cosa accade tra berlusconi e renzi la sfida è gelo renzi berlusconi forza italia dialogo ma no diktat oggi il vertice della verità forza italia si ricompatta il premier il problema non è silvio leggiamo più in particolare questa notizia questione di feeling sì ma fino a un certo punto se è vero come dice d'alema che renzi e berlusconi sono fatti della stessa pasta resta da scoprire se proprio questa peculiarità non finisca per allontanarli mandando in frantumi quel patto del nazareno che sembrava la pietra miliare del dialogo politico intanto l'ex rottamatore ieri sera da vespa ha lanciato messaggi del tipo il problema non è il cavaliere ma i brunetta i fitto e come i ciclisti ho fatto uno strappo in salita l'impegno di maggioranza è finire entro il 31 dicembre la legge elettorale al senato vedremo che cosa accadrà quali saranno gli sviluppi sulla questione poi tensione lottis e forza italia e sulla linea di brunetta allora questo confronto è inutile e poi le scelte sulla consulta per la presidenza in corsa il napoletano criscuolo hanno giurato ieri al quirinale dinanzi al presidente della repubblica giorgio napolitano i nuovi giudici della corte costituzionale daria de pretis e nicolò zanon di nomina presidenziale scelti dallo stesso napolitano il 18 ottobre e silvana sciarra di indicazione parlamentare eletta il 6 novembre dalle camere e domani la corte si riunirà quasi al completo per eleggere tra i propri componenti il nuovo presidente che prenderà il posto di giuseppe tesauro che sappiamo essere di origini di roscinio quasi al completo perché manca ancora l'appello un giudice le camere che sulla gius lavorista di firenze candidata del pd hanno trovato l'intesa non sono riuscite invece a convergere sul nome della salernitana marzia ferraioli sostenuta da forze italia e da mara carfagna andiamo avanti leggiamo al ultimo titolo di questa pagina poche garanzie per mediaset segnali di guerra da arcore marina e pier silvio berlusconi preoccupati dalle scelte del governo del nel settore telecomunicazioni la minaccia il sottosegretario giacomelli pronto ad annullare lo sconto di 73 milioni per le concessioni televisive andiamo avanti proseguiamo con un'altra pagina e apriamo il primo piano sulle stangate che nel 2015 ci saranno sulla benzina e allora leggiamo questo annuncio di rincari benzina stangata in arrivo nel 2015 rincaro di 8 centesimi nella manovra via lo sconto fiscale sul tfr in busta paga i rap alleggerite le imposte per 223 miliardi e caccia ai furbi e poi allarme pensioni per 400 mila italiani contributi svalutati dalla caduta del pil leggiamo insieme l'inps chiede all'esecutivo di intervenire per eliminare gli effetti negativi sugli assegni neppure il tempo di incassare il primo assegno e la pensione si è già svalutata a mara sorpresa in arrivo per 400 mila italiani che si preparano ad andare a riposo l'inps ha segnalato al governo che il crollo del pil negli ultimi anni avrà effetti regressivi sui trattamenti e ancora leggiamo il mattino di salerno la prima pagina ieri il presidente della provincia di salerno aveva puntato le sue dichiarazioni sul termo valorizzatore ma invece oggi c'è qualcosa di diverso termo valorizzatore veto de luca il sindaco stop a canfora non ci sono le risorse esistono alternative all'impianto l'endorsement del presidente della provincia riapre il dibattito fuoco amico da ragosta e sel e ancora ambientalisti già sul piede di guerra già sulle barricate e jannone il l'ex presidente della provincia di salerno di fratelli d'italia provoca il pd e allo sbando dice e poi di spalla il ricambio generazionale tra i banchi e la riflessione di alessandro turchi e poi ancora il caso bufera angri indagati mauri e gli assessori e invece andiamo a centro pagina c'è ancora è ancora aperto il caso san matteo quindi caos san matteo l'inchiesta si allarga i portatori sfilano davanti ai pm fittipaldi verso l'emissione di nuovi avvisi di garanzia e poi via ferrara cambio al vertice del tribunale tre mesi fa intascato il sì della vecchia commissione incarichi direttivi del csm lunedì quello della nuova commissione stamattina la nomina dovrebbe essere ratificata dal plenum del csm un passaggio formale ma necessario per definire il trasferimento di ettore ferrara presidente del tribunale di salerno a napoli ad inserire la copertura della presidenza del tribunale di napoli tra le priorità del csm era stato proprio napolitano e poi sicurezza minacce di morte per rilevare il bar a battipaglia e poi leggiamo in basso le erbe della giovinezza nel giardino di calvanico di rinomele andiamo avanti pagina interna del mattino di salerno leggiamo subito il cilento vallo di diano la pagina che ci riguarda da vicino leggiamo insieme allora le notizie di cronaca a capaccio tornano i ladri hotel ripulito un altro colpo di notte stavolta nel merino il meridiana alla frazione laura erano entrano nel giardino da retro e portano via oggetti e computer per un valore di 20 mila euro l'allarme il proprietario guida pestum in preoccupati preoccupati per i clienti e cittadini che hanno paura e poi a torre orsaia no al gasdotto i sindaci al tar contro la regione contestato fortunato non difende le ragioni del golfo di policastro e poi a centropagina da castellabate furto e ricettazione preso mentre rivende la merce rubata e poi ballo della lucania parco dopo 13 anni nuovo contratto di lavoro e poi leggiamo ancora insieme pollica rogo al bar lido di pioppi panico e caos nella notte e poi ballo della lucania investe e ferisce il vigile che lo multa è stato arrestato con questa notizia di cronaca concludiamo la prima parte della rassegna stampa ma tra poco ci ritroviamo per parlare ancora di molte altre notizie e di scuola a tra poco ben ritrovati con la rassegna stampa di mercoledì 12 novembre continuiamo con la città di salerno a salerno nuova stangata sulle case il governo vara il decreto per la revisione delle rendite catastali in città ci sarà un aumento da record la jeffis prevede un rincaro del 178 per cento per confedilizia si arriverà al 600 per cento e poi a centropagina venditori abusivi il comune invoca l'intervento del prefetto e c'è stata appunto una denuncia da parte dei commercianti di salerno per la presenza massiccia di venditori abusivi lungo il corso e poi deluca il pd vuole mollarlo regione dopo il rinvio a giudizio riunione per cambiare il candidato il pd corre ai ripari dopo il rinvio a giudizio di vincenzo deluca per il caso crescent in una riunione ristretta a livello regionale è stato deciso di individuare un candidato alternativo per la presidenza della regione è questa la novità politica del giorno sanità ruggi turni di notte con meno infermieri e poi delitto di rovella sparò ad enzo persico perizia per l'assassino leggiamo le notizie di spalla giffoni vallepiana droga truffe minacce quattro arresti e poi angri giunta indagata per il rimborso a un funzionario e poi ancora cava dei tirreni alloggi popolari nel mirino l'assegnazione i titoli dei commenti di oggi li leggiamo subito maltempo piogge e frane la liguria in ginocchio due morti e poi il sinodo cantiere aperto e infine lo sport la salernitana blinda analini il procuratore del giocatore prepara l'incontro con fabbiani e poi la serie a napoli sogna la mela più chance per aiev cavese biglietti ribassati in attesa del via libera andiamo sulla pagina interna che riguarda i nubi fragi in liguria allora leggiamo la notizia appunto che riguarda la morte dei due dispersi ritrovati marito e moglie ritrovati sepolti nel fango davanti alla loro casa a leivi nel tigullio arriva l'esercito trasporti in tilt migliaia senza acqua potabile nubi fragi e frane due morti in liguria appunto è il titolo leggiamo insieme nel particolare le frane si contano a decine e chiudono strade che isolano frazioni e case sparse sulle pendici delle colline una di queste è crollata sulla casa di franca iaccino 69 anni e carlo arminise 73 quando la tempesta di fulmini e pioggia è arrivata all'apice e la montagna ha iniziato a muoversi hanno sentito il pericolo e provato a fuggire ma sono stati travolti dalla furia degli elementi uno a poca distanza dall'altro appello di burlando al ministro dell'ambiente se non si dà una mano a imprese e famiglie stavolta non si riparte servono subito soldi per ridare speranza e poi ancora a chiavari sono esondati l'entella il rupinaro e lo sturla allagato il centro storico sommersa la stazione ai sottopassi ferroviari di antichi porticati lo stadio eppure il carcere una situazione davvero difficile nel nord dell'italia appunto è questa la cartina che fa appunto mette appunto a fuoco i punti i più gravi in cui appunto ci sono state le esondazioni andiamo avanti con la pagina nazionale della della città di salerno piemonte esondano i laghi e il po fa paura tracimano il maggiore e l'orta dopo 48 ore di piogge battenti frazioni evacuate neve sopra i 2000 metri e vedremo anche oggi che cosa succede in campagna pioggia la pioggia si sta di nuovo abbattendo sulla nostra regione vedremo se ci saranno novità scuola salerno vediamo che cosa ci racconta la città oggi su questo particolare tema mensa scolastica di qualità ai fornelli gli chef del futuro una notizia e una storia che arriva da sapri gli allievi dell'indirizzo alberghiero del pisacane di sapri curano la refezione così 170 bambini appunto delle scuole elementari mangiano prodotti locali sempre freschi e controllati dall'asl e poi i maggiori formazione in europa il comite vola all'estero e ancora all'alfano primo di salerno un dibattito sulla buona scuola promosso dagli studenti cattolici e poi comunicare ai tempi di facebook rischi prospettive e vantaggi dei social network in un convegno al liceo tasso che si è svolto appunto ieri a salerno andiamo avanti con la nostra rassegna stampa con lo sport dalla pagina della città di salerno leggiamo il napoli punta su aiev ma sogna la mela de laurentis ha un pallino per l'argentino mentre a bigon piace anche perisic caleion in nazionale grazie al club e poi rafael e iguain subito in campo leggiamo nel particolare subito in campo due protagonisti del napoli per le amichevoli internazionali rafael e iguain risponderanno presto all'appello il portiere della selesao è impegnato nel test ad istanbul contro la turchia ha aggiunto il ritiro assieme a neto suo avversario domenica il franchi contro la fiorentina è stato l'azzurro a vincere la sfida tutta brasiliana e il merito è stato di iguain il pipita è l'uomo copertina del napoli in questo momento sei gol distribuiti tra verona atalanta roma e fiorentina che hanno trascinato il napoli in alto leggiamo ancora notizie di sport però in questo caso è un concorso giornalistico un premio giornalistico intitolato ad antonio ghirelli che si terrà questa mattina la memoria che non muore mai il ricordo di oltre 50 anni di grande impegno politico sociale calcistico il rifiurire di una figura leggendaria per il panorama giornalistico italiano a poco più di due anni dalla scomparsa di antonio ghirelli se ne celebrerà la grandezza d'animo e la scrittura sublime attraverso un premio internazionale di giornalismo sportivo sarà presentato questa mattina alle 10.30 presso la sede dell'ordine dei giornalisti della campania in via santa maria di cappella vecchia napoli promosso dalla onlus ali andiamo avanti con un altro titolo di sport givona scafati un calcio che costa caro basket palamangano squalificato per tre turni tifoso ha colpito un giocatore e poi ancora calcio serie di scafatese l'appello di vaiano aiuti o il titolo scomparirà e poi ancora coppa campania secondo turno c'è il derby tra salernum e audax questa era l'ultima pagina della città passiamo alla nuova del sud leggiamo subito il titolo di apertura che riguarda la politica regione sotto assedio petrolio centinaia di studenti chiedono di impugnare l'articolo 38 e anche il fronte dei sindaci si allarga editoria l'eco dei basilicata nel mirino delle fiamme gialle la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per l'equivalente pari ad oltre 100 155 mila euro per contributi non spettanti sulla vendita fittizia di circa 73 mila coppie dell'eco della basilicata un periodico a diffusione locale del lago negrese e poi banzi rubava i soldi al nonno in manette omicidio defina un barista conferma l'alibi dell'imputato gli altri titoli corsa contro il dissesto al comune di potenza salta il tavolo politico chiesto un parere al viminale sui 15 milioni delle cooperative di macchia giocoli e murate comunale 2015 matera verso la sfida aduce tortorelli macombraia e santo chirico assessori confermata per l'attuale sindaco il pd mai così scollegato dai lucani per una per sua fortuna le tante opposizioni stanno peggio per matera capitale è la partita della vita e poi forestazione e reddito minimo i consiglieri pietrantuono e galante fanno squadra e lanciano l'agenzia agroforestale 500x e renegade hanno salvato la fiat di melfi e poi ancora calcio a 5 a 2 avis policoro la società sul piede di guerra con i giocatori bloccati i rimborsi e poi zoom completo sul campionato dei giovanissimi è tutto per la rassegna stampa di oggi seguiteci su www.unotvweb.it io vi do appuntamento al tg a delle 13 e 45 grazie a tutti buona giornata grazie a tutti